Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conferenza stampa della Top Wall di Cisterna. Oggi presentiamo il nuovo vicepresidente della Mastro Club, un club importante che si avvia iniziato nella stagione numero 49 della sua storia, una squadra che ha ambizioni importanti. Quindi oggi parliamo con al tavolo il presidente Gianlio Farimene, il presidente onorario Massimiliano Marini e il nuovo vicepresidente. Che tra poco vi presenteremo. Ringraziamo la squadra che è rappresentata da Daniele Sottile, Giulio Sabbi, Rasteca Vuto, Luigi Randazzo e poi lo staff di tre allenatori con il coach Lorenzo Tubertini, Cocconi e Tomasino che sono i due secondo, rispettivamente secondo e terzo allenatori. Allora, iniziamo dalla padrone di casa Massimiliano Marini che è il presidente onorario del Grav, per dare il benvenuto a tutti e quindi si parte ufficialmente con la conferenza stampa. Buonasera e ben ritrovati a tutti quanti, grazie Giuseppe. Oggi è una giornata, come dicevo, abbastanza piena. Abbiamo letto i calendari della nuova stagione e poi molto importante è la presentazione del vicepresidente Dennis Francia che noi effettivamente siamo veramente onorati di che lui abbia accettato questa carica. Comunque poi sarà lui a dirci il nostro presidente ad illustrarci. Niente, che dire. Speriamo che sia una stagione importante, come noi ci attendiamo. I ragazzi li ho visti belli carichi, il coach abbastanza che lui desideroso deve iniziare. Speriamo che in questa stagione si possa far rientrare il pubblico all'interno dei palazzetti dell'asporto, perché è un vero peccato chiaramente. Dopo ovviamente seguiremo tutto ciò che viene, quali sono le prescrizioni chiaramente sanitarie. Io mi dilungo più di tanto, do un benvenuto a Dennis e poi ti do la parola. Grazie al presidente Maria della Top Party Cisterna, ci spostiamo al presidente del club. Gianni Farimelle, avete lavorato tanto per una squadra che va sul campo, ma si è lavorato allo stesso tempo in maniera importante anche per la squadra che siede dietro la scrivania e quindi il nuovo vicepresidente si inserisce in questo contesto. Farimelle. Sì, buonasera anche da parte mia a tutti. Chiaro che l'ingresso di una famiglia, un'azienda così importante all'interno della compagine risulta per noi un altissimo valore aggiunto. e credo che sia il, come dire, il compimento di un mio antico desiderio da cui ho sempre ripetuto che questa squadra non è probabilmente un valore aggiunto solo per una località, ma è un valore per tutta la provincia di Latina e o se ne dire per tutta la regione, anche perché comunque siamo da anni l'espressione più importante della regione di Latina. E l'ingresso di una famiglia, di un'azienda come Francia, credo che, ripeto, suggeri questo mio pensiero, questo mio desiderio. a Dennis poi faccio un augurio personale che forse è anche una condanna in cui sedici anni fa io dissi appena dieci giorni e poi smetto. Sono bastati sedici anni e resto, resto ancora qua. Quindi il lavoro è una roba strana, ti viene una scimmia sulla spalla che non ti lascia più. Quindi il desiderio, a parte gli scherzi nostro, è quello anche di avere da parte sua e della sua azienda una mano dal punto di vista importante manageriale di idee, di innovazione, perché poi comunque chi frequenta per troppi anni sempre gli stessi ambienti si focalizza e si radica sempre sulle stesse posizioni. energie nuove, metti nuove, non possono che far bene. Quindi grazie innanzitutto e soprattutto benvenuto in mezzo a noi. Bene, sei stato introdotto da Massimiliano Magliette al gerifo rimane per quanto riguarda il ruolo di vicepresidente Dennis Francia, l'espressione della famiglia Francia che è sulle magliette della squadra di vallavoro della top pole da moltissimi anni. Poi nel corso di questi anni la passione è cresciuta e quindi sono aumentate anche la presenza a palazzetto e quindi è diventata una vera e propria voglia di diventare qualcosa in più un semplice appassionato, un semplice tifoso. Il Gruppo Francia è un gruppo internazionale e ha una capacità di esportazione mondiale, quindi unisce la tradizione della storia e quindi della prima continua a una visione del futuro che quindi è importante con questo giusto mix. Come ci si sente ad essere il nuovo vicepresidente di una squadra di sumergica? Se tutto grazie per la presentazione, ringrazio Massimo per l'ospitalità e il Presidente per l'opportunità avuta di entrare a far parte della società Top Golli per noi e parlo a nome di tutta l'azienda, è veramente un onore essere parte integrante e come giustamente dicevi è diversi anni che partecipiamo come forse in maniera un po' meno passiva appunto come sponsor all'interno della Top Volley. L'anno scorso è cresciuta via via appunto la bellezza di questo sport vivendolo in prima persona, da classico italiano diciamo che la passione è la più verso il mondo del calcio, poi effettivamente partecipando al mondo volley si apprezzano tanti valori che forse in un mondo del calcio un meno si perdono. E' cresciuta questa voglia, c'è stata l'opportunità di entrare a far parte attivamente e diciamo che l'ho accolta in maniera immediata e la speranza è quella di appunto appunto apportare quello che ad oggi siamo riusciti, io personalmente in precedenza appunto i familiari, all'interno del mondo aziendale anche quel dinamismo, quel brio anche nel mondo dello sport e in questo caso attivamenta all'interno della società. Bene, insieme a Dennis oggi è presente anche Romane Francia che fa parte della divisione delle gare dell'azienda, un'azienda che esporta praticamente tutta l'Europa ma anche in Nord America, side del Dolfo Persico, Giappone, Singapore, Italia e India. Questo si unisce molto a quello che nello sport è poi la composizione delle scuole perché abbiamo giocatori internazionali che fanno parte della top volley di Cisterna, alcuni di quali sono qui hanno delle esperienze importanti anche all'estero e quindi come si può unire questa passione sportiva che però ha sempre un occhio manageriale, quindi una visione del futuro che ci porta insomma a progettare quello che sarà il campionato, la top volley anche nei prossimi anni. Come giustamente dicevi è un giusto binomio che si viene a creare, forse proprio la maglietta della top volley è quel giusto mezzo anche tramite i giocatori che ne fanno parte di portare quei valori, quella tradizionalità che noi oggi cerchiamo giorno dopo giorno di apportare su tutti i mercati, dal mercato domestico fino al mercato internazionale. Sicuramente anche l'aspetto di un ambiente molto internazionale viene poi rispecchiato su quella che è la composizione della squadra e che ci rappresenta appieno. Bene, avete un terzo stabilimento costruito in Germania a Berlino, saprai sicuramente che nella nostra squadra c'è un giocatore della nazionale tedesca e quindi ti lancio questo assist insomma per chiarirci un po' come Francia si muove sul territorio locale ma anche all'estero. Sì, fortunatamente abbiamo una rappresentanza anche in Germania, è stata un'occasione nel passato dove appunto c'è stata un'opportunità di poter sviluppare quello che era appunto la tradizione italiana anche all'estero, cerchiamo di farlo nel modo migliore, cerchiamo di portare quotidianamente quelli che sono i nostri valori e anche i mercati fuori da Goldomessi che sono sicuramente molto più particolari, molto più difficili e sicuramente ci fa piacere che una persona appunto tedesca faccia parte della squadra, ecco. Bene, allora ci sono presenti i colleghi giornalisti, inizierei dal vicano e da una coppola del messaggero, poi una tassa, una tassa anche. Sì, ecco, buongiorno. No, Francia come io non sono di Latina sto qua dal 1991, perché ho diretto, non ci conosciamo diretto, ora sono pensionato ma continuo anche a farlo con il volley perché come dice, come ha detto il presidente, il volley è qualcosa che poi una volta che hai conosciuto ti rimane addosso. e quindi ho diretto la redazione di Latina del messaggero, perché grazie anche. E quindi ho conosciuto Francia, perché giornalistica l'ho trovata legata al basket, perché io non mangio, ahimè, latticini di nessun tipo, quindi non sono il vostro consumatore, un po' lavorato in voi, per me non esiste, quindi ahimè. Io conosco come marchio, che apprezzo come marchio, ma dal punto di vista gustativo. Ecco, come mai questo passaggio, questi sono stati legati in grani, ho visto al basket, questo passaggio al volley, e poi voglio dire, spero che insomma, oltre a… che indubbiamente vi portate dietro, e quindi che ci sia un rafforzamento anche dal punto di vista economico, che non voglio sapere quanto mettere, però insomma ecco, se anche a questo punto c'è l'interesse da parte vostra a garantire un programma di assistenza, perché la protocolli ha lanciato un programma di rilancio e di ripresa della squadra, con un futuro, si spera, sempre più importante sui campi di volo, insomma. Grazie. Sì, abbiamo cercato noi come gruppo aziendale del territorio di valorizzare sempre quello che fosse le espressioni sportive principali nel territorio puntino, ma anche del sud del Lazio, e con la top volley in diversi anni che partecipiamo a qualità di sponsor, ovviamente il livello… non c'è stato proprio passaggio, si fanno delle scelte aziendali, si fanno delle valutazioni, sicuramente ad oggi consideriamo il mezzo della top volley come il mezzo migliore per propagare quello che è il nostro marchio. La sponsorizzazione è sicuramente un elemento importante, crediamo nel progetto, entriamo a far parte di quello che è l'ambito decisionale, ci fa piacere e sicuramente cercheremo di contribuire in maniera adeguata a quello che è lo sviluppo appunto della società. Grazie. Prego. Bene. Grazie, pezzetta dello sport. Salve, buonasera. Mi sembra che questo rappresenti quindi un ulteriore passaggio riguardo l'evoluzione della società a cui faceva riferimento il Presidente anche le mesi addietro. e diciamo vi siederà di un obiettivo concreto a lungo termine per i risultati anche sul campo intendo visto che c'è questo pilone. No, quello lo speriamo. Poi in qualità appunto di neofita, di entrata alla società, sicuramente mi affido più a delle figure più diciamo mature della mia. Sicuramente cerchiamo anche noi ovviamente quello che è un programma a lungo termine, questo senso non avere dubbio. Cosa vuoi fare nello specifico? Attualmente specifico, specifico nulla ecco. Magari Giardio può diciamo coordinare questa risposta nell'ambito di più di campo che di quelli più certamente managiniali. Allora il nostro primo obiettivo è far vendere più copie della gazzetta dello sport. Sarà contento per poi giocciare così. C'è stato un periodo che... Così molto righe ce ne faranno. Dai nostri banchi partiva un coro Presidente portaci in Europa e in Europa li siamo girati. Sì. Quindi potrebbe partire un ulteriore coro. Vediamo, c'era il campo... Si parlava dell'aspetto delle altre sue problemi. A parte quello diciamo è chiaro che insomma, come si dice, chi ha sofferto impara anche a non lanciare troppi programmi prima. Vedo che poi il campo è comunque il giudice supremo. Riteniamo, l'abbiamo già detto più volte, che ha fatto una squadra che possa giocare alla pari più o meno con tutti. Poi sarà compito loro, tra virgolette, il metterci quel quid in più per poter aspirare a risultati di prestigio. È chiaro che poi con l'azienda di respiro mondiale giocare in Europa è un valore aggiunto anche per gli sponsor. E quindi, come ha detto il coach un'altra sera, i consigli bisogna accettarli perché è qualcosa buono e giusto. Per cui vediamo come riusciremo. Adesso il primo obiettivo è giocare, assoluto. Dopodiché è il secondo, sarà finire il campionato. A quel punto tireremo le somme e vediamo. Ovviamente, diciamo che la, ma questo l'abbiamo già detto in altre occasioni, la volontà di crescita e finalizzare chiaramente degli obiettivi importanti che possono essere in play off piuttosto che l'Europa, piuttosto che altre possibilità che possono avere idee del corso della stagione o delle stagioni ventune. Dovremmo essere bravi a accoglierle e presenze nuove, tipo quelle di tennis, se non possono ripetarci un valore aggiunto a questo tipo di obiettivo. Scusa, prima delle domande sentiamo la squadra e il coach che devono andare a fare l'allenamento. Grazie ai ragazzi, grazie ai coach della disponibilità. Un buon allenamento a tutti. Ciao. 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 Per il resto c'è parità assoluta. Sì, questa è stata una scelta condivisa da tutta la Lega. Tra l'altro credo che l'imprimatur di questa formula sia stata proprio di candido, o comunque il primo sasso lanciato nello stagno. Devo dire che personalmente mi piace, anche perché sono anni che mi impatto in Lega per formule nuove, idee nuove, perché sono assolutamente convinto che lo sport sia fatto di storie e quando vince sempre lo stesso di storie ce ne hai poco da raccontare. Quindi al di là dei valori oggettivi, chiaramente, che vanno rispettati. Però questa formula mi piace, ci permetterà, perché uno degli obiettivi è anche quello, di fare una sorta di prova generale del campionato rispetto ai protocolli che verranno messi in atto per quelle date, quindi servirà a tutte le società per mettere a punto l'inizio di campionato, anche dal punto di vista di protocollo sanitario per gli atleti e speriamo pubblico poco, tanto che sia insomma. Comunque si giocherà a porte chiuse? Comunque si giocherà a porte chiuse questa... Allora, non si sa perché il DPCM è attuale due volte chiuse, però tra 15 giorni ci sarà un altro e tutti sperano che si possa avere una capienza almeno in una percentuale rispetto alla capienza massima dell'impianto, però ovviamente in questo momento solo la nostra Dabus potrebbe darci un... Quindi anche le date del calendario Superliga sono date ipotenti? No, no, le date si cominciano, poi su quale siano i protocolli in quel momento ovviamente lo scopriremo 10-15 giorni prima Lega e le federazioni hanno messo... Stanno parlando? No, no, le federazioni stanno parlando tutti i giorni Tra l'altro, diciamo oggi il primo scoglio da superare è quello di assumere un protocollo che permetta di poter fare 6 contro 6 in palestra Perché teoricamente in questo momento si potrebbe giocare 6 contro 6 solo con le mascherine Peccato che se giochi con le mascherine muore qualcuno Quindi quello sarà il primo step Poi man mano vedere rispetto... Perché tanto alla fine tutti, credo che nella Lega o alla federazione si farà parte dirigente per portare un proprio protocollo all'attenzione del CTS e cominciare a capire con loro quali possono essere le modifiche piuttosto che i cambi, i ruggimenti o quello che sarà Inizialmente si era parlato di due giornate, non più di due giornate a porte chiuse se no non si partiva neppure Poi Massimo parlava sempre Ora si parte comunque A partire si parte Poi vediamo Perché intanto oggi oggettivamente chiunque si lanci una previsione fa prima a prendersi i numeri sabato Quindi bisognava... Ah no, era questa incertezza piena che c'era prima Quindi adesso c'è una certezza comunque Le date Le date Gabriele Mancini, la tira oggi? Buon pomeriggio Siamo già molto avanti Già ti parla di stagioni Io voglio fare il passo di vedo e fare una domanda al Vice Presidente Che ha parlato all'inizio di impegno trasformato in passione Facendo anche il passaggio sul calcio che è lo sport nazionale Ecco, ha parlato della sforza stagione Io l'ho seguita quasi tutta, gran parte della stagione della Coppogli E il palassetto mediamente era pieno Adesso tralasciando un attimo la questione Covid-19 Insomma, questa passione, questa piazza Il Presidente ha detto anche una cosa giusta Nel senso che questa squadra non deve rappresentare solo il territorio Ma anche l'intera regione, no? Perché è la prima squadra del Lazio Però ecco, come nasce questa Come si trasforma questo impegno in passione proprio Durante quest'ultimo periodo? Qual è la scintilla? Ah, come le dicevo prima La cosa che veramente mi ha intrigato È i valori che ci sono all'interno di questo sport Cioè proprio il fair play Lo spirito di gruppo che si crea all'interno del mondo del volley Cosa diciamo un pochino meno frequente nell'ambito del calcio Ovviamente sono anche due sport abbastanza diversi E poi soprattutto quel tifo sano, vero che si vedeva all'interno del palassetto Che effettivamente oggi i fatti di cronaca nell'ambito del calcio Insomma non sono proprio uguali Quindi insomma questo ambiente molto puro, molto sano E effettivamente ti pare scoprire quei bei valori dello sport Che dovrebbero essere sicuramente quella di L'Unione e quella del tifo sano Credo che prima di lei abbia colpito il Presidente Marini Credo che prima di lei abbia colpito il Presidente Marini questa compassione coinvolgente Ecco questo sentiamo Sì sì assolutamente sì, condivido pienamente quello che dice Dennis È uno sport che per quanto mi riguarda è molto affascinante Perché non c'è quel laconismo come può esserci nei sport di contatto C'è molto per play, c'è molto perciò dà la possibilità sia ai giovanissimi ai bambini Infatti io purtroppo adesso con questo problema del Covid Ho sempre sostenuto di cercare di incentivare anche nelle scuole a portare i ragazzi a vedere le partite Proprio perché lo ritengo come tutto lo sport, lo sport insegna Insegna la competizione a vincere, a perdere, a sapere perdere A sapere che i risultati si ottengono solo con il massimo impegno E non basta tante volte Però quindi il volley è uno di quei sport che veramente, come ci ho detto altre volte Ti permette di andare, di passare due ore della domenica O insieme alla famiglia, o insieme a un compagno, a un compagno, a degli amichetti Dipende dalla che uno ha E rilassarsi, è come andare al teatro Il teatro chiaramente ha i limiti, lo spettacolo culturale molto bello E lo sport mi dà la stessa tentazione Perciò oggi in Regione, come diceva Gianlio, abbiamo la top volley E secondo me dobbiamo cercare di valorizzarla al pieno, in pieno E cercare di farla amare il più possibile alla cittadinanza sia in stena o solo della provincia Grazie Bene, quella domanda? Sì, la mia era più caldo una battuta sul calendario Mi sembra abbastanza stimolante l'esordio a Milano E poi le due partite in grado a conseguire contro Jacinto e Padua Una battuta con il Presidente, con gli altri presenti insomma Dal mio punto di vista, ti sono di poco aiuto perché il calendario non è mai stato un esercizio che mi ha appassionato Negli anni, tranne quest'anno, negli ultimi 16 anni Gaetano, un minuto dopo che uscivo nei calendari mi chiamavo a Bologna Per il commento sul calendario, appuntualmente è sempre stato lo stesso Tanto Primo Doro può giocare con tutti La parte intrigante è quello che ho letto, che non so se sia vero, che Milano vorrebbe provare a chiedere l'Arena Civica per giocare contro di noi Che sarebbe uno scenario non da poco Chiaro che poi non risponderemo con lo seo, con tutti Non è il cosiddetto, il coach No, il coach no, perché avrebbe dato gli allenatori che non vanno presi in considerazione per queste cose Si fanno tutte le loro teorie per cui vediamo se questa cosa accadrà o meno La vera notizia è che non giochiamo contro Perugia da prima, come negli ultimi anni Questa è la vera notizia Poi il resto vedremo come verrà Poi insomma il Massimo e Dennis hanno approcci diversi rispetto al mio No, 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 siamo sul stesso pensiero Non giochiamo col Perugia Comunque, come dicevi giustamente tu, dobbiamo giocare con tutti E' importante dare sempre il massimo Divertirsi, i ragazzi si divertono anche facciano divertire Questa cosa è importante E poi, chiaro come diceva all'inizio già io Cercare di centrare gli obiettivi che sono quello di raggiungere i play-off Ma nelle altre stagioni iniziare contro squadre forti poteva anche avere il vantaggio Perché le squadre arrivavano lunghe nella preparazione per impegni internazionali di molti atleti Quest'anno questa cosa non c'è Quindi generalmente le squadre si stanno allenando a completo E quindi un po' diverse Coach diceva lo scorso Cioè partire contro squadre più forti serve anche a misurarsi e a prendere un ritmo Però secondo me se parti con squadre più accortabili e riesci a fare punti subito Credo che sia anche un vantaggio perché ti metti da parte un tesoretto Che poi ti serve nel corso del proseguo del campionato Teoricamente si, questo è tutto vero Però è teoricamente E devo dire che guardando il calcio abbiamo visto che post-covid è stato un altro sport Quindi anche noi impareremo per la prima volta una stagione con le squadre a completo da più di un mese Perché normalmente tu sai meglio di me Che insomma le squadre si completavano l'ultima settimana Per gli impegni internazionali Quindi quest'anno sarà anno zero per tutti Sicuramente questo Confesso che questo ragionamento L'ho fatto pure io quando ho visto il calendario Però diciamo che dal mio punto di vista Mi aspetto nove punti delle prime quattro partite Così mettiamo subito un po' di pressione Bene, portiamo il focus sul vicepresidente So che il candidato grande ci teneva a salutarlo Il direttore sportivo della squadra E ha insistito tanto per dare il suo saluto anche formalmente a Dennis Ma credo che con Dennis stiamo sentendo da parecchie settimane per questo argomento Quindi lo sai il mio pensiero E sono contentissimo che una famiglia così importante sia vicino a noi E questo per noi è solo un orgoglio Quindi adesso speriamo che tutti insieme Riusciremo a raggiungere gli obiettivi che abbiamo in testa Sicuramente il percorso è molto lungo, molto duro E molto faticoso Quindi ci deve essere l'impegno di tutti E credo che con questo impegno di tutti quanti Potremmo raggiungere gli obiettivi importanti Se posso aggiungere speriamo via la soddisfazione Hai ragione, si dimentica Allora ci sono altre domande dei giornalisti Ok, telegramma finale Massimiliano Marini Presidente dell'Orello della Top Goal e Cisterna Una squadra quindi rafforzata sul campo Ma anche con l'ingresso di Dennis Una compagine societaria più ringiovanita? Un punto di domanda? Sicuramente sì Sicuramente sì, esatto Dei capelli come se le pappa Esatto, con i capelli siamo assunti di fatti male No, sicuramente sì Io rinnovo un ringraziamento a Dennis Di aver accettato questa carica E di entrare a far parte diciamo Di questa altra famiglia Che è la Top Goal Perché alla fine è una famiglia Con tante ambizioni Come dicevo prima Di far bene Anche perché ripeto Lo sport è una cosa importante Poi abbiamo un'opportunità Quella di rappresentare il Lazio A livello di pallavolo Quindi dobbiamo far bene È un progetto che in convenzione A tutta la società A Candido A Gian Rio E tutt'altra dirigenza Si vuole cercare di Ogni anno Passetto Dopo passetto Di far sempre meglio No? Iniziamo Iniziamo A vedere se Se questo che si sta facendo Insomma Che si sapeva quanto fare Ci si riuscirà Lo vedremo a fine stagione Sicuramente L'avvento di tennis Può portare solo Un miglioramento Perciò Lo ringrazio ancora E In bocca al lupo Allora per questa nuova esperienza Ok Grazie a voi Telegramma finale Gianni Fargane Telegramma finale E Quello che parte E Ci Faremo il punto della situazione Fra 16 anni Quando Anche lui Sarà stato rimasto coinvolto In 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 questo Spettacolare modo Bene Dennis I primi 31 minuti Da vicepresidente Della Top Wallet System Sicuramente Già ti sarei fatto Un'idea Volevo Ricordare la tua attenzione Tra i valori Della vostra azienda I valori Di un territorio Ma anche un impatto importante Sull'occupazione Di un territorio Quindi Sport Sì Ma anche Grumocchio Sulla parte Diciamo dell'azienda Che è un'azienda A tutti gli effetti internazionali Sì Soprattutto In questo momento particolare Cerchiamo di fare la nostra parte Siamo un gruppo Che Attualmente Tra tutti e tre I plant produttivi Diamo occupazione A più di 300 persone In questo momento Ovviamente Le difficoltà sono tante Però Sicuramente Facciamo la nostra parte Cerchiamo di farla al meglio Cerchiamo di tutelare quello che Si è prodotto Per i consumatori Ma anche Allo stesso Lo stesso Lavoratore interno Con tutti i DPI Fondamentali Che ad oggi Sono necessari Per E quello che Ovviamente Cerchiamo di Portare Anche Con attenzione Con la focalizzazione All'interno dell'ambito Appunto Della società Bene Grazie Dalli Sfaccia Il Vice Presidente Della Topole Cisterna Assimilando Marili Il Presidente Orario E Eugenio Farivene Il Presidente del Club Ringrazio Danilo Cinelli Che cura tutta la parte grafica E poi ho riparlato per le foto Ringraziamo Taubergele Che è il nostro supporto Per quanto riguarda L'igenitazione Qui c'è una colonnina Che è Simile a quella Che è posizionata al palazzetto Che però Ha anche un display Che misura la temperatura Ai giocatori E a tutto lo staff Grazie a tutti Per la vostra Preziosa presenza Grazie a tutti I giornalisti E a tutti Quelli che sono presenti Ora facciamo una foto Maola prego Ovviamente mascherina E il sanzionamento Ci abbracceremo Durante il campionato Sì La mascherina Fa proprio una mascherina E poi aveva la mascherina Grazie a tutti.